Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia, questo Creativamente, bentornati sul mio canale. Oggi realizziamo insieme questa borsa barra pochette a punto zigzag con la fettuccia, a me il risultato piace tantissimo, è una borsa che spesso anche sul web vedete, era già da un po' che volevo realizzarla e finalmente sono riuscita a farlo, quindi oggi vi propongo questo tutorial appunto, è una borsa molto semplice e anche molto veloce da fare, un pomeriggio vi basterà per appunto realizzarla, quindi non è molto complessa. Io spero appunto che il video vi piaccia, se provate a realizzarle mandatemi le foto, vi ricordo che su Facebook è stato aperto un gruppo che si chiama Mari e le amiche uncinettina, dove ci si scambia tutorial, schemi, consigli, foto delle proprie creazioni e quant'altro, quindi mi raccomando io vi aspetto, iscrivetevi al gruppo, un bacione enorme e vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa borsettina molto molto carina è naturalmente della fettuccia, io utilizzo questa che è in bobina da 500 grammi, l'ho scelta di questo color blu, la fettuccia in licra lucida, normalissima e poi un uncinetto numero 8 con cui andremo a lavorare appunto la nostra borsa e poi ci servirà una chiusura a cartella che io in questo momento non ho ancora ma che mi procurerò prima della fine e quindi una chiusura a cartella io utilizzo quelle della Prim e naturalmente color argento, poi se volete mettere la vostra pochette da una catena per farci la tracolla eccetera vi servirà anche quella, vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.mercediamari.it quindi iniziamo subito e partiamo avviando 20 catenelle realizzate tutte le nostre catenelle andiamo per ognuna di esse a lavorare una maglia bassa quindi una catenella per girare e poi andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante e poi andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante alla base della nostra borsa facciamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro e adesso andremo nel vivo della lavorazione quindi abbiamo le nostre 3 catenelle saltiamo il primo punto andiamo nel secondo e facciamo una maglia bassa quindi andiamo a puntare qui in questo foro in basso che è del primo giro ed è in diagonale quindi noi siamo qui ma andiamo a spostarci all'indietro in questo foro entriamo con l'uncinetto usciamo col filo e tiriamo su l'asola bella lunga dopodiché carichiamo il filo e rientriamo nella stessa asola e ancora una volta in questo modo dopodiché prendiamo il filo sull'uncinetto e entriamo attraverso tutte tranne l'ultima così prendiamo di nuovo il filo e le chiudiamo entrambe e vedete che si è creato il nostro primo motivo adesso saltiamo il punto seguente andiamo in quello dopo e facciamo una maglia bassa nel giro dove lavoreremo di solito poi torniamo indietro e andiamo a puntarci sotto in corrispondenza al punto che abbiamo saltato ma nel primo giro così e di nuovo facciamo come prima e allunghiamo le nostre belle soline prendiamo il filo e passiamo all'interno di tutte tranne l'ultima in modo da rimanere con due asole sull'uncinetto riprendo il filo e le chiudo entrambe ed ecco che abbiamo creato il nostro secondo motivo di lavorazione vedete che generalmente noi lavoriamo in orizzontale però con questo motivo viene forse un po' più comodo lavorare come se fosse in verticale quindi adesso saltiamo il primo punto, ci spostiamo nel secondo facciamo una maglia bassa e poi torniamo a lavorare il punto sotto però della riga sotto quello che abbiamo saltato ed entriamo all'interno del punto tre volte così prendiamo il filo e chiudiamo tutto tranne l'ultima prendiamo il filo e le chiudiamo anche questa voilà una volta terminato il giro facciamo di nuovo due catenelle voltiamo il lavoro andiamo nella seconda maglia quindi non qui ma qui e facciamo una maglia bassa torniamo indietro nel primo foro che avevamo saltato nel primo punto e facciamo il nostro punto allungato chiudiamo tutto lasciamo solo fuori l'ultima maglia e andiamo a chiudere poi anche quella e vedete che ci viene esattamente la stessa cosa di prima ma nell'altro senso quindi adesso saltiamo il primo punto andiamo nel secondo e facciamo una maglia bassa così torniamo indietro nel punto che abbiamo saltato ci inseriamo all'interno e facciamo il nostro punto a zig zag chiudiamo tutto tranne l'ultima e dopo andiamo a chiudere anche quella quindi vedete che sopra ci compare lo stesso motivo ma nell'altro senso e così via quando di nuovo gireremo il lavoro il procedimento però è lo stesso salto il primo punto nel secondo faccio una maglia bassa torno indietro a recuperare il primo punto e faccio questo diciamo un punto allungato entrando tre volte nello stesso punto così poi passo e chiudo tutto tranne l'ultimo e poi chiudo assieme gli ultimi due in questo modo e proseguiamo così anche per tutto questo giro una volta terminato questo secondo giro a rinuovo facciamo due catenelle voltiamo il lavoro e ricominciamo guardate qui c'ho una giunta vabbè ricominciamo lo stesso procedimento per tutta l'altezza della nostra borsa ok? che io non so ancora qual è e ve lo dirò appena appunto appena ci sarò arrivata quindi proseguiamo in questo modo fino all'altezza desiderata guardate ho realizzato 17 giri e più o meno ho realizzato il rettangolo delle dimensioni che mi serviranno per poi andare a creare la mia pochette perché se io vado a chiuderla vedete viene più o meno così e quindi queste sono appunto le dimensioni per me ottimali poi vedete voi in base se volete farla più lunga più larga come vi piace di più potete anche farla più larga così basta mettere più catenelle all'inizio e farla della dimensione che più vi piace terminato quindi iniziamo il nostro giro di bordo tutto attorno facendo della maglia bassissima quindi andiamo a fare un giro di maglia bassissima su tutti e quattro i lati della nostra pochette quindi adesso sto facendo sul lato quello dove stavo lavorando quindi niente di complesso un giro di maglia bassissima una volta arrivati sull'angolo facciamo una catenella e subito dopo un'altra maglia bassissima perché non avvenga una diminuzione dopodiché ci giriamo sull'altro lato e nuovamente proseguiamo a lavorare a maglia bassissima quindi di nuovo una per ogni punto proseguiamo la lavorazione e proseguiamo così per tutti i restanti lati una volta bordato di maglia bassa tutto il nostro pannello stagliamo il filo in questo modo perché adesso dobbiamo andare a fare i nostri laterali ovvero se andiamo a piegare la nostra borsa nella posizione definitiva dobbiamo andare vedete qua questa parte qui dove doppia dobbiamo andare a realizzare un pannellino piccolino di maglia bassa che arrivi diciamo a questa altezza della vostra borsa quindi che sia alto fino a qua da poter appunto inserire adesso per fare il nostro laterale avviamo 5 catenelle sopra le quali andremo a realizzare 7 giri di maglia bassa quindi una catenella per girare e poi vado a lavorare le mie 5 catenelle i 4 e 5 ora facciamo una catenella voltiamo il lavoro e di nuovo lavoriamo le nostre 5 catenelle così per un totale di 7 giri una volta realizzato il nostro mini pannellino da 7 giri dobbiamo andarlo ad attaccare così alla nostra borsa in modo da formare il laterale quindi io adesso sono qui nell'angolino mi posiziono subito nell'angolino qui dove in realtà voglio attaccarlo e faccio una maglia bassissima tiro per bene e dopodiché proseguo puntando sempre nella parte lavorata del mio laterale e nella mia borsa in questo modo prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima vedete in modo da unire i pezzi adesso di nuovo punto prima nel mio laterale poi nella mia borsa prendo il filo e tiro facendo una maglia bassissima adesso di nuovo punto nel mio laterale nella mia borsa prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima ancora voilà vedete che il primo lato lo abbiamo unito adesso dobbiamo andare ad unire diciamo la parte sotto che però si fa sempre nello stesso identico modo quindi passo prima nel mio laterale poi nella mia borsa e vado ad unire con una maglia bassissima vedete voilà devo ancora attaccare questo pezzo così ma si prosegue nello stesso identico modo quindi sempre prima punto nel laterale poi punto nella mia borsa e chiudo con una maglia bassissima guardate ho terminato di attaccare il mio laterale questo è il risultato e adesso ovviamente dobbiamo andare a fare lo stesso procedimento dall'altra parte quindi sempre un piccolo pannellino esattamente grosso come prima e che adesso andiamo ad attaccare sempre a maglia bassissima nell'altro lato quindi una volta terminato di attaccare i laterali tutti e due ecco che andiamo a posizionare la nostra chiusura in questo modo a cartella quindi io adesso la borsa l'ho già riempita ma la chiusura è composta da questo pezzo che si va a posizionare andando a stringere queste due linguette si posiziona si inserisce questo disco bianco che vedete e poi si piegano le due linguette mentre il pezzo da sopra funge un po' da pinza vedete ha questa scanalatura qua in centro che funge da pinza pinza la nostra borsa e poi ha di nuovo le due linguette qua che si vanno a piegare e a chiudere e questa è la chiusura che io sono andata a mettere la chiusura a cartella appunto che è della Prim e comunque trovate sempre in vendita sul sito merceriamare.it quindi questo è quanto adesso come ultimissima cosa mi sono procurata una catena per la tracolla una catena lunga 90 cm con due moschettoni al fondo e poi andiamo a prendere la nostra pochette e andiamo ad agganciargli i moschettoni qui così sulla pattina vedete in questo modo e voilà la nostra pochette è terminata io spero che il video vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzarlo e aspetto le vostre foto vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video ciao